Quando eravamo piccoli l'altalena Che è seguita alla prima, mi sposto intanto perché qui passano i mezzi, vedete? Alzati e fai un... dunque alzati Allora siamo passati, scusate Parta la campagna vaginale, la campagna... Che è ancora giallo, non è stato del tutto risolto sulla presunta fuga, sulla presunta fuga, quella lasciamo da una parte Corriere della Sega Bergamaschi in corsa per il Pirellone Il campione di scherma a Spromonte Referendum Che è successo? Oddio Che succede Cristina? Mi sono preoccupata Scusami Scusami Che sei e con chi sei? Ecco Alle 23 e 40 circa Alle 23 e 40 circa circa Scusate, 23 e 40 circa Buona proseguimento di serata